Musica Sono Franca Patriacca, vicepresidente dell'intepida basket di Ortona, una società con oltre 60 anni di storia e da 50 anni iscritta alla Federazione Italiana Pallacanestro. Siamo presso la palestra Don Bosco dei Salissiani in Ortona, in via Costantinopoli, e siamo al centro di Ortona o al centro della città. Ospitiamo bambini dal mini basket fino ai senior e dal mini basket come settore mini basket bambini dai 5 anni agli 11 anni, mentre dal basket dai 12 anni in su. Per intenderci, mini basket è dall'ultimo anno della scuola materna alla prima media e a seguire la seconda media in poi. Contiamo di avere una grande partecipazione di bambini perché è uno sport pulito e, come ripeto, è al centro della città. Dopo, è uno sport che ha tanta storia a Ortona, essendo appunto una delle società più anziane a livello nazionale, considerando che la nostra società è nata appunto con l'insediamento dei salissiani ad Ortona. e dal 64 siamo iscritti presso la federazione e, come ripeto, è la società più anziana a livello nazionale. Nel nostro organico abbiamo persone di un certo calibro, a partire dal nostro coach Claudio Capone, che è allenatore della prima squadra, i nostri senior, e poi a seguire il signor Antonio Borromeo, la Mirella De Grandis, l'Olga Turino e Stefano Scavoncelli ed altri ancora che si stanno avvicinando quest'anno a noi. Cerchiamo di fare questa attività come progetto iniziale, quello di avvicinare i bambini dall'età così tenera e formarli per poter avere una crescita anche con una etica salissiana, che è quello che ci dovrebbe contadistinguere. E il nostro progetto è quello veramente sportivo. Giochiamo insieme per divertirci. A badare, a vedere chi...